Qualche giorno fa si è tenuto a Las Vegas il CinemaCon, un evento davvero interessante con la partecipazione di diverse case di produzione con i loro panel. C'è stato quello di Disney, c'è stato quello di Warner, c'è stato quello di Sony e c'è stato anche quello di Universal, di cui in parte parleremo oggi visto che hanno presentato, hanno avuto modo di presentare meglio, uno dei film che attendo di più il prossimo anno, nel 2024, che arriverà a marzo, e sto parlando naturalmente di Kung Fu Panda 4. Il film era già stato annunciato nell'estate scorsa, adesso non ricordo se era luglio o agosto, comunque l'estate era sicura. Io ne ho già parlato sul canale un paio di volte, la prima volta quando ancora non era ufficiale, teorizzavo l'uscita di questo quarto capitolo, e poi quando appunto l'anno scorso l'hanno annunciato ufficialmente. Questa in realtà dovrebbe essere solo la terza volta che parlo di questo Kung Fu Panda 4, perché adesso sappiamo anche la trama, grazie al panel di Universal di DreamWorks tenutosi al CinemaCon. Kung Fu Panda è da sempre una delle mie saghe preferite, è la mia saga preferita DreamWorks in assoluto, e quindi questo Kung Fu Panda 4 davvero lo attendo tantissimo, perché tutti e tre i film usciti finora, l'ultimo è del 2015 o 2016, non ricordo adesso esattamente l'anno d'uscita, comunque sono passati tanti e tanti anni, anche l'ultimo che non è stato apprezzato da proprio tutti, a me continua a fare impazzire tantissimo. Quindi non vedo l'ora che sia marzo 2024. È un po' che non ci vediamo sul canale, l'ultimo video è la recensione di Cocaine Orso, che trovate appunto pubblicata, è di nove giorni fa, comunque è davvero tanto che non ci vediamo, e la pubblicazione dei video nei prossimi due mesi, quindi maggio e giugno e qualche giorno di luglio, sarà più o meno questa, perché oltre ai video che ho già preparato, che usciranno il 16 maggio e il 27 giugno, che sono già pubblicati non in elenco sul canale, non avrò così tanto modo di mettermi davanti la telecamera e registrare altri video, perché sarò impegnato con l'esame, visto che quest'anno mi tocca fare l'esame di maturità, e quindi la pubblicazione di video sarà minore in questi, almeno in questi due mesi, poi in estate spero di riprendere un po' il ritmo che c'era prima. Ma adesso, prima di parlare di Kung Fu Panda 4, vi ricordo che in descrizione trovate i link importanti tra i miei social, come Instagram, TikTok, Twitter, Letterboxd, e trovate anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd, dove trovate tantissimi design delle vostre serie e film preferiti, e al momento del pagamento, se inserirete il codice Il Pensiero 4, vi verrà regalato un paio di calze a scelta. Voi scegliete il paio che volete, lo mettete nel carrello e queste calze vi costeranno 0€. Ma adesso parliamo di questa trama di Kung Fu Panda 4, che sinceramente, in questo quarto capitolo avremo come protagonista, naturalmente, Po, alla ricerca di un nuovo guerriero dragone. Già, sembra aver già bisogno di un erede. Anche perché, credo, sarà ambientato qualche anno dopo l'ultimo film uscito nel 2015, e non solo il lasso di tempo che ci ha separati dal terzo film a questo quarto. Penso che ci saranno diversi anni di differenza. Però questo non è ufficiale, lo sto semplicemente dicendo io. Andando alla ricerca di questo nuovo guerriero dragone, Po sarà alle prese con un viaggio davvero lungo fuori dalla Cina, quindi si allontanerà dal solito scenario che abbiamo visto in ben tre film della saga. Non contiamo, naturalmente, le diverse serie che non sono nemmeno così tanto canoniche all'interno della saga cinematografica. Anche quella di Netflix uscita recentemente con la sua seconda stagione, quella non la conto nemmeno come canonica, viste le cose che ci vengono dette e ci vengono fatte vedere. Fatto sta che si allontana dalla Cina. In questo viaggio incontrerà un nuovo villain, sarà un mago, una maga in realtà è un personaggio femminile, che si fa chiamare Kamaleonte, ed essendo appunto nel mondo di Kung Fu Panda, penso che sarà effettivamente un Kamaleonte antropomorfo. La cosa che mi interessa di più è che questo quarto film di Kung Fu Panda sarà un Kung Fu Panda No Way Home, in qualche modo, perché sì, questo Kamaleonte, questa strega, questa maga con il suo potere, porterà in vita, almeno così viene descritto, i vecchi villain di Po, di Kung Fu Panda, dei tre film di Kung Fu Panda, quindi Tai Lung, Lord Shen e Kai. Adesso, mettiamo le cose in chiaro. Essendo un personaggio che si fa chiamare Kamaleonte, sarà molto probabilmente un Kamaleonte, non so se il potere sarà quello di evocare dal mondo dei morti questi villain, o se avrà il potere di trasformarsi in quei villain, quindi non contemporaneamente, visto che il personaggio è uno e può prendere le sembianze di quel villain uno alla volta, appunto. Io sinceramente preferirei la prima scelta, quindi la possibilità di evocare dal mondo dei morti questi villain, che con le loro personalità, essendo appunto loro stessi, ritornano in vita per combattere ancora una volta Po, piuttosto che questo personaggio con la sua unica personalità che prende le sembianze degli altri villain. Questo non lo apprezzerei così tanto, perché appunto non sarebbero realmente Tai Lung, Lord Shen e Kai, ma sarebbero Kamaleonte, uno alla volta tra l'altro, sarà Kamaleonte questo nuovo personaggio, con le sembianze solo fisiche, e magari di abilità e di agilità degli altri personaggi, ma non saranno loro. È un po' quasi il potere che aveva Kai nel terzo film, quindi evocare non i villain, ma evocare i vecchi maestri di Kung Fu, però spero di non vedere questi villain così di Giada, Verdi, preferirei rivederli della loro colorazione, normali. Ma passiamo all'altra cosa interessante di questa descrizione della trama, ovvero il fatto che Po sta cercando un erede, sta cercando un nuovo guerriero dragone, un po' come ha fatto appunto Ogway, anche se al tempo comunque non esisteva il concetto di guerriero dragone, Po in teoria è stato l'unico ufficiale primo guerriero dragone. Mi immagino di vedere un po' più anziano del solito, più maturo, più che anziano magari fisicamente, non lo vedrei con i peli neri più ingrigiti, no, questo no, ma caratterialmente sicuramente più maturo, non perdendo la sua solita caratterizzazione, perché lui è quel personaggio simpaticone e stupidotto, però un po' più maturo sicuramente lo vorrei. E voglio cogliere dal passato il vecchio rumor che diceva che usciranno ben tre film in più di Kung Fu Panda, e quindi credo che l'idea sia effettivamente quella. Dreamworks vuole realizzare altri tre film, compreso ovviamente questo quarto, e a questo punto mi viene in mente la solita dinamica maestro-allievo. Quindi in questo quarto capitolo Po sarà ancora il protagonista assoluto alla ricerca di un nuovo guerriero dragone, un erede. Mettiamo caso che a fine film riesce a trovare questo erede, scartandone magari qualcuno durante la strada, sconfiggendo di nuovo i suoi villain, magari l'erede lo aiuterà a sconfiggere questi nuovi cattivoni, in realtà questo nuovo cattivone che farà comparire, speriamo, i vecchi nemici di Po. Quindi mettiamo caso che a fine trovi effettivamente un nuovo possibile guerriero dragone, nel quinto film lo allenerà, ovviamente ci sarà un altro villain, ne sono assolutamente sicuro, non penso si concentreranno semplicemente sull'allenamento di questo nuovo guerriero. Quindi nel quinto film lo allenerà, e sfortunatamente nel sesto film sì, continuerà l'allenamento, ma a fine ci sarà questo nuovo guerriero dragone ben preparato a tutti gli effetti e Po ci saluterà in qualche modo. Quindi sì, credo che a fine saga con Fupanda, se poi magari lo vogliono continuare con questo personaggio come protagonista, anche se la vedo difficile, dipende che tipo di personaggio presenteranno, appunto credo che la saga si concluderà con il sesto capitolo, con la morte di Po. Cosa che stava già quasi succedendo nel terzo capitolo, ma appunto se avete visto il film sapete che non è morto. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto se quest'idea di questa nuova trilogia, almeno non è una cosa ufficiale, lo ripeto, l'ho semplicemente detta io in questo video, questa nuova storia, in questi nuovi tre film, ecco, non è ufficiale. Però fatemi sapere se vi piace l'idea. Fatemi sapere anche se, in questo caso è ufficiale, la trama del quarto capitolo vi piace, a me piace tantissimo, sperando che appunto il potere di Camaleonte sia quello che ho detto nel video. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate i link importanti tra i miei social, il link di Pampling con il codice ilpensiero4, c'è anche il link del Fantasia Store per Funko Pop, Giochi in Scato, la carta collezionabile, manga e tanto altro, e con il codice Andri5 avrete il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati del sito. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao.